Questo video in collaborazione col programma di EA Creator Network di Electronic Arts Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti o bentornati sul mio canale Finalmente vita nel ranch è arrivata a noi, grazie a Electronic Arts ho la possibilità di farvela vedere in anteprima E nel video di oggi, nello specifico, andiamo a vedere lo scenario di Chestnut Ridge Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate Vi ricordo anche che avete il codice attivo Maruco su Pampling, Pampling per chi non lo sapesse È un sito che vende tantissimi articoli a tema nerd, anime, manga, serie tv, Harry Potter, Disney Trovate tantissime cose e se utilizzerete il codice Maruco con i vostri ordini avrete le calze omaggio Passate dal link qua sotto in descrizione e direi che ci immergiamo in quel di Chestnut Ridge Davanti a noi il nuovo scenario, molto classico seppur davvero bello, si divide in tre quartieri Abbiamo la gola galoppante, ovvero il quartiere più in alto che è anche quello più misterioso e interessante Abbiamo il quartiere in basso, Valle dei Cavalieri e abbiamo infine Newapalooza, ovvero il centro cittadino Ma ragazzi quello che ho fatto io è stato rebuildare tutto lo scenario Infatti Chestnut Ridge si compone di ben 13 lotti e io 13 ne ho fatti Di conseguenza andiamo a vederli insieme E quindi eccoci qui nella mia Chestnut Ridge Come vedete due lotti sono vuoti perché li ho fatti in un altro salvataggio, li vedremo a breve Detto ciò però come vedete ho fatto diverse case residenziali, ho fatto un bar, ho fatto il locale notturno Di conseguenza ho ottenuto il tipo di lotto e in più ho aggiunto il bubble tea Tengo a precisare due cose I lotti che vedete sono stati fatti col gioco base, vita da liceali e ovviamente vita nel ranch Altra cosa ragazzi vi fornirò il save file se volete scaricare lo scenario rebuildato completamente E aggiungerò i lotti in galleria dopo il 20, dopo l'uscita di vita nel ranch Detto ciò però non ci incischiamo e direi di partire dalla casa già abitata dal mio simmino Quindi parte il tour Ed eccola qua Ragazzi questa casa è un esperimento Ho deciso infatti di utilizzare un lotto molto molto piccolo, un 20x20, se non sbaglio un 20x15 Ora ve lo faccio vedere un 20x15 per creare una casa che si sviluppasse in altezza Come vedete eccola qua, si sviluppa in più piani Abbiamo la parte esterna con la stalla, spero ragazzi vi piaccia Devo dire che la modalità compre e costruisci e il debug di queste espansioni sono la vita E li ho imparati a memoria per assurdo per la prima volta visto che ho davvero buildato tantissimo E ragazzi guardate un po', abbiamo l'ingresso con la porta ovviamente scorrevole Abbiamo appunto la piccola stalla e tutto molto molto compatto Vi faccio vedere ovviamente gli interni Abbiamo, vado col muro alto, abbiamo l'ingresso che è questo E in realtà è un open space Guardate un po', abbiamo le scalette con un piccolo studio, sala da pranzo, libreria Che porta al piano superiore Da questa parte invece piccola cucina E qua salottino Ovviamente utilizzato preponderanza di oggetti della nuova espansione E non vedo l'ora di avere questa espansione in combo con le altre Perché ho un mucchio di idee per le build Però mi servono i tipi di lotto degli altri DLC Quindi restate sintonizzati Altra cosa, qua abbiamo il bagnetto con il nuovo set del bagno Molto semplice anche questo, guardate un po' E infine, non meno importante, la stalla, beveratoio, mangiatoia E ovviamente la zona dove poter fare tutte le interazioni con i cavalli Salendo al piano superiore invece troviamo Beh, un piccolo corridoio Abbastanza stretto e diverse camere La prima è la Narsery Guardate un po' altro studio La culla e ovviamente due letti per bambini, adolescenti Abbiamo un bagno bello grande Dal momento che al piano inferiore era stato sacrificato Con doppio lavabo, vasca, tutti i mobiletti Eccolo qua Un bagno decisamente grande Abbiamo poi un'altra camera Sempre per ragazzi Doppia Eccola qui Sempre con le librerie e tutto quello che ne deriva E infine, non meno importante Camera da letto matrimoniale Eccola qua Vi voglio anche far notare ovviamente che ho utilizzato lo strumento nel soffitto Quindi guardate un po' Abbiamo anche giustamente tutto il soffitto con le travi E poi soprattutto qua ho ricavato una piccola cabina armadio Guardate un po' con i nuovi oggetti Bagno padronale In camera piccolino ma sempre utile Guardate quanti bagni signori E infine scaletta un po' segreta Che ci porta al sottotetto Dove c'è semplicemente una zona da pittura Una tv E un piccolo salottino col balconcino Che si affaccia all'esterno E questa ragazzi era la prima casa Ne mancano dodici E quindi direi che passiamo alla prossima Altra casa che andiamo a vedere è questa Come vedete 20x20 e costa 17.000 simoleon Ho deciso di fare una casa start Qualora voleste iniziare la vostra personalissima partita Questa la possono comprare tutti i sim Di conseguenza andiamo in modalità Compra e costruisci e la vediamo insieme È decisamente una casa un po' più spartana Rispetto alle altre Ma ci sta dal momento che è una casa start Come vedete abbiamo il nostro ingresso Abbiamo una zona dove poter fare coltivazioni e nettare Soprattutto le cantinette per conservare il vino Una zona con la palletta per il cavallo Una stalla ricavata da questa struttura Che trovate nel debug Quindi abbiamo tutto quello che serve al cavallo Ovvero il portaselle Un po' di strumenti per il ranch Abbiamo abbeveratoio e ovviamente mangiatoia E un piccolo portico Che appunto ha una zona per il nettare Una zona barbecue con un tavolino E una poltrona Molto molto semplice Eccola qua Andiamo a vedere ovviamente gli interni Gli interni ragazzi sono davvero piccoletti Ma è pur sempre una casa start Abbiamo quindi una mini cucina Fatta in questo modo Un mini salottino Eccolo qua con la tv E una piccola sala da pranzo Abbiamo poi una porta che ci conduce La camera da letto Molto semplice Con scrivania E bagno Ecco qua È molto povera di contenuti Ma ragazzi dovevamo restare Entro i 20.000 simoleon E questo è come si presenta all'esterno Piccolina Semplice Ovviamente vuota Ma hey È pur sempre un inizio Andiamo a vedere ora Il bar Ragazzi Primo lotto comunitario Che ho fatto E il bar In realtà L'ho pensato In vari modi Questo perché Con vita In città E soprattutto A lavoro Noi possiamo creare Una vera e propria Enoteca E non vedo l'ora Di trasformare alcuni lotti In enoteca Per vendere il nettare Oltretutto Ve ne avrò già parlato Il nettare Può arrivare a valere Oltre 20.000 simoleon Di conseguenza I nostri sim possono vivere Di nettare E della vendita di nettare Detto ciò però Al momento è un bar Che si presenta In questo modo ragazzi Abbiamo due strutture Abbiamo la struttura principale E la struttura dove Lasciare i cavalli Quando veniamo a cavallo E vogliamo entrare al bar Quindi partendo sempre Da questa zona Abbiamo una zona mangiatoia E abbeveratoio Le stalle Per i cavalli Guardatele un po' Molto semplici Aspettate che Vado a fare così Eccole qua Come vedete qua Possiamo lasciare i cavalli E chiudere tutte le porte Mentre all'esterno Abbiamo altre mangiatoie Altri abbeveratoi E delle zone Dove i sim possono sedersi All'aperto Quindi abbiamo diverse sedute I cartelletti Abbiamo qua Questa pergola Che ho deciso di fare Con i nuovi elementi Di vita nel ranch Quindi come vedete Ho utilizzato Questa roba qua Le viti sono del debug E anche qua Abbiamo una zona Dove i sim si possono sedere Abbiamo due ingressi Belli grandi Con le porte da finire E direi a questo punto Che possiamo andare a vedere Cosa ci aspetta Quindi scendiamo di piano Perfetto E si va all'interno Abbiamo la prima zona Con il nostro bar Molto semplice Girando la visuale Abbiamo una pista da ballo Un po' più bassa E alcune sedute Per i nostri sim Le botti E così via Qua abbiamo I banni del bar Molto semplicemente Ma ve li faccio vedere Per completezza Qua abbiamo due vc Niente di che Eccoli qua Poi abbiamo sempre L'affaccio Sulle zone esterne Quindi ne abbiamo due E poi al piano superiore Invece Eccoci qua Abbiamo una zona Che si affaccia Su quella inferiore Con tavoli da gioco Tavoli Dove si possono fare Diverse cose Ecco qua Degli ottomani E così via Quindi abbiamo Il nostro bar Diviso in due zone Per il resto ragazzi Questo è E però Mi piace davvero tanto È davvero Molto simpatico Come ritrovo Spero ragazzi Vi piacciono i lotti Fatemi sapere Che ne pensate A questo punto Andiamo In un parco Ragazzi Ce ne saranno Ben tre Questo perché Avendo vita nel ranch E non avendo Per forza la possibilità Di fare le cose a casa Avere dei parchi Dove sviluppare L'equitazione È molto molto importante Si può fare anche In questa zona È vero Questa zona Che è Rabbit Hole In realtà ci permette Nella zona esterna Di fare equitazione Ma volevo Creare I miei personalissimi ranch E soprattutto I miei maneggi E questo è il primo Come vedete Anche questo È fatto Da due strutture Abbiamo tutta la zona esterna Dove i nostri cavalli Possono fare equitazione Abbiamo le stallette Molto semplici Da questa parte Dove lasciare i cavalli E poi abbiamo Questa pergola Bella grande Dove all'interno Beh i nostri sim Possono fare Diverse cose Vi faccio vedere Infatti Se vado A far così Qua abbiamo Una zona Molto molto Peculiare Sotto la pergola Dove ci sono Delle sedute Dove mangiare Tutte le griglie I tavoli da picnic I tavoli Degli scacchi Mentre qua Abbiamo Il primo Elemento Ovvero Il primo Edificio E questo è molto semplice C'è una sala da ballo Laggiù Guardatela un po' La sala da ballo In questo modo E diverse sedute Molto semplice Anche questo E qua abbiamo Ovviamente il bar Quindi i nostri sim In questa zona Possono rilassarsi Bere qualcosa E ballare Questa zona poi come vedete È bella ampia Non ho fatto il secondo piano E si presenta In questo modo Dall'altra parte Invece Non meno importante Oltre le stalle Abbiamo un'altra zona Eccola qua Anche questa Particolare E doppia Qua ho fatto un piccolo Soppalchino E qua ragazzi Semplicemente i sim Possono sedersi E rilassarsi In due livelli Con le piattaforme E oltretutto In questa zona Il soppalco Giustifica la presenza Dei bagni Dell'otto Quindi molto molto semplice Guardate un po' Molto molto semplice E questo è ragazzi Qua abbiamo appunto Tutta la zona esterna I nostri sim Possono venire qua A rilassarsi Con i loro cavalli E anche imparare Delle cose E devo dire che Mi piace Mi piace Mi piace lo stile Oltretutto ho utilizzato Vedete tutti gli sticker Dell'espansione Che secondo me Danno tanto carattere E poi ho deciso Di utilizzare Diverse texture Per quanto riguarda i muri Andiamo a questo punto In un'altra casa Eccola qua Sempre residenziale E la vediamo Eccola qua ragazzi E questa è la mia prima build Subita nel ranch Questa è la prima casetta Che ho fatto E questa l'ho pensata Per una famiglia Che appunto Vive di Nettare Ovvero con un'enoteca Infatti come vedete C'è l'ingresso dell'enoteca Mentre qua c'è un ingresso Di casa Come vedete All'esterno abbiamo Un po' di decorazioni Molto semplici E qua abbiamo una zona Dove si possono sedersi C'è un tavolo Le botti Tutte le cantinette E vediamo subito La zona dell'enoteca Quindi del futuro negozio Di questa famiglia E questa E la vediamo subito Quindi si entra Sempre dalle porte Ovviamente da granaio E questa ragazzi È l'enoteca Abbiamo delle zone Dove si possono sedersi A bere qualcosa Mentre qua ragazzi Abbiamo dei tavolini Dove ci sono degli espositori Altri tavoli Cantinette E qua il bancone Del negozio Ovviamente le travi Al soffitto Guardate un po' Questa è la nostra enoteca Con tanto di bagno Annesso Quindi un vero proprio negozio Che voi potete sfruttare Con le vostre famiglie Magari sostituendo Questo banco Con quello di Vita in città Vediamo un po' Come funziona la vendita Se anche si può fare Qua abbiamo il bagno Del negozio Anche questo Molto semplice Ragazzi Niente di troppo complicato Poi soprattutto Qua dietro Abbiamo il laboratorio Dove si produce Il nettare Eccolo qua Come vedete Abbiamo un cantinetta E postazione nettare Molto semplice Da questa porta però Si va al piano superiore E alla casetta Quindi Dalle nostre scale Si arriva In questa zona Dove ancora si produce nettare Guardate un po' Ho un piccolo disimpegno E questo è il vero e proprio appartamento Molto semplice Sarà da pranzo Soggiorno Cucina a vista Abbiamo diverse cose Oltretutto Qui Fermi Ok La finestra S'era messa male Perfetto Quindi qua abbiamo Diverse cose E due porte La prima ci conduce Alla camera da letto Molto semplice Con tutti i nuovi mobili Seconda porta Il bagnetto di servizio Anche qua abbiamo tutto Abbiamo la vasca E così via E qua ragazzi Abbiamo addirittura Una zona esterna Con un balconcino Tanto sto notando Che le finestre Si mettono un po' male E devo fare così Perfetto Quindi ragazzi Questa è la casa perfetta Per cominciare A vendere Il nettare E a produrlo Ovviamente Starete notando Qua però Non c'è troppo spazio Dove coltivare Questo è vero Ma qua davanti Ho lasciato un po' di spazio Per mettere le fioriere Volendo Potete piantare qua Le vostre cose O qua addirittura Potete fare Una fila Di viti O di quant'altro Proprio per avviare La produzione E questa ragazza È la casetta Che si presenta così Spero vi piaccia Altro lotto Che vediamo insieme È il locale Notturno Questo ragazzo È stato davvero Un esperimento E non so Se vi piacerà La forma è molto Molto strana Guardate un po' È la forma Di una sorta di Fienile E come vedete Si presenta così È molto molto particolare Abbiamo due zone esterne Dove si possono appunto Bere qualcosa E rilassarsi Poi abbiamo Due veri e propri edifici Che sono collegati Da questo edificio Diciamo E questo passaggio interno Da questa parte Se vado In questa zona Abbiamo Il vero e proprio Locale notturno Come vedete Qua abbiamo Sempre le travi A vista Con il bar Abbiamo tante sedute E qua anche il pianoforte E così via Come vedete Questa zona È bella ampia È davvero Bella bella ampia Oltretutto Probabilmente Lo facciamo insieme Vado a mettere I soffitti E in questo caso Vado a far così E vado a far così Perfetto Quindi ragazzi La zona si presenta così Eccola qua Molto Molto Semplice Un'altra cosa Che sto notando È che purtroppo A volte Le cose Spariscono Infatti qua È sparito Il pezzo del bar Vado a rimetterlo subito Eccolo qua Rimesso al suo posto Perfetto Ora È tutto completo L'altra parte Invece Passando dalla zona Coperta esterna Si va Alla zona Ballo Con diverse Ottomane Eccola qua E i bagni Molto semplice Ragazzi Questo è il nostro Locale Notturno Ve lo faccio vedere Di nuovo Per intero È una build Un po' particolare Ma volevo Sperimentare Spero vi piaccia Qui ragazzi Ho cambiato Il salvataggio Perché come vi ho detto I due parchi grandi Li ho fatti In un'altra partita E li starete Già notando Direi che andiamo A vedere Questa Che è la build Più grande Quella che mi ha Richiesto più tempo Ma spero Davvero vi piaccia Ho deciso infatti Di creare una vera E propria Mini cittadina In stile ranch E il lotto ragazzi Si presenta Così È molto molto grande Un 64x64 E come vedete Ho fatto delle zone Soprelevate Le montagne E una vera e propria Zona cittadina Quindi è arrivato Il momento Di vederla Direi di partire Da questa parte Abbiamo l'ingresso E come vedete Tutti gli edifici Sono diversi Ho anche utilizzato Alcuni edifici Del debug Per renderla Un po' più peculiare Abbiamo questa prima casa Abbiamo poi Delle zone Più vivibili E abitabili Infatti Passando dal nostro cartello Abbiamo la prima zona Come vedete Con la porta Fatta in questo modo E la stessa pergola Che ho proposto In varie build Perché mi piace un sacco E da qua ragazzi Si va alla prima zona La prima zona Eccola qua Non è altro Che la zona Dei bagni Dell'otto Perché serviva Un edificio Solo per i bagni Qua sono tutti semplici E così via Quindi la prima zona Che si trova Sono i bagni Di fronte invece Oltre le viti Del debug Abbiamo appunto La prima casetta E abbiamo Un altro edificio Eccolo qua Sempre a due piani Vi faccio vedere Un po' di dettagli E questa ragazzi È appunto La zona vino Infatti come vedete Anche in questo lotto Ho deciso di fare Una vera e propria Enoteca Molto semplice Niente di complesso Con alcune sedute Dove si possono fare Ciò che vogliono Alcune bottigliette E con le finestre Ho fatto dietro Il laboratorio Con tutte le postazioni Per creare il nettare Oltretutto qua C'è un'uscita segreta Vi faccio vedere Che conduce A delle scale Particolari E se noi andiamo Sopra la nostra cantina Ecco qua Abbiamo Il bar Clandestino Ragazzi Abbiamo Un vero e proprio Bar Clandestino Eccolo qua Il bar segreto Con tutte le cose E qua la pista da ballo Stile Ranch E guardate un po' Ragazzi Questo locale Nascosto Ed è Un locale Frequentato Solo Dagli amanti Di questa cittadina Quindi Non è per tutti È un po' Un club esclusivo Ma spero vi piaccia Anche l'idea che c'è dietro Dall'altra parte Invece Sempre dalla scala segreta Si va All'appartamento Di chi ha Il negozio Quindi abbiamo La cucina Abbiamo il salottino Delle vetrate Che ci dividono Dalla camera da letto Molto Molto Semplice Questa è La casetta Dei proprietari Del nostro negozio Eccola qua Semplicissima Andando avanti Però col nostro tour Di fronte Alla cantina Abbiamo Delle altre cose Ovvero La sala Da ballo La sala da ballo country Eccola qua Ve la faccio vedere Con tutti gli specchietti E così via Ho usato anche delle travi Del debug Per fare la cornice Allo specchio E questa è Una piccola sala da ballo Per i nostri sim Dove si possono sedere E ballare In tutta tranquillità E soprattutto Andando avanti Oltre la nostra enoteca Abbiamo una zona Bella ampia Che è il centro Della città Con altri edifici E qua abbiamo Un altro edificio Con le postazioni Per gli schiacchi Mentre da questa parte Ve lo faccio vedere Dall'altra via Perché ragazzi In realtà La mia idea era Quella di fare Una cittadina western Quindi come vedete Abbiamo i viali classici Con tutte le casette Andiamo da questa parte Qua ragazzi Abbiamo Semplicemente Una zona Dove si possono Intrattenersi Con il pianoforte E magari qualche spettacolo Al microfono Un mobile ricavato Con le nostre cantinette I mobili della cucina E delle panche Molto semplice Di fianco invece Abbiamo Una stalletta Eccola qua Dove lasciare I cavalli Eccola qua Con la mangiatoia E l'abbeveratoio Mentre qua abbiamo Una zona dove i cavalli Possono giocare E soprattutto L'addietro in fondo Una vera e propria Zona stalle Dove lasciare i cavalli Quando venite In questo tipo di lotto Come vedete Tutto è stato creato Anche con le rocce Del debug E di conseguenza Abbiamo questa situazione qui Ma secondo me ci sta Mi piace molto Come effetto Il fatto che la roccia Vada un po' all'interno Lo rende tutto Molto molto più wild Oltretutto qua abbiamo Tutta la zona Con il cavallo Eccola qua E tutte le informazioni Andando indietro Quindi tornando All'inizio del lotto E prendendo L'altra via Quindi questa zona Abbiamo il negozio Dove si possono acquistare Le caprette Eccetera E quello l'ho messo Dal debug Qua abbiamo Una zona parcheggio Con il pick up E il nostro rimorchio Per i cavalli Mentre da questa parte Abbiamo altri edifici Vedete Anche qua abbiamo fatto Una via Il primo edificio Che incontriamo E' questo Ve lo faccio vedere subito E questo ragazzi Ha una porta Che ci conduce Dall'altra parte Eccola qua Con la postazione vino Ma in realtà Le scale Hanno una funzione Ovvero quella Di portarci A diversi appartamenti Perché volevo Fare in modo Che i simi Quando venivano qua Potessero anche pernottare Quindi questo è il primo appartamento Eccolo qua Molto molto semplice Qua abbiamo Una zona Con cucina E letti E quindi questa è la zona Di passaggio Del primo appartamento Dall'altra parte Invece C'è una zona esterna Che ci conduce A un altro piccolo appartamento Per sim Molto semplice E infine All'ultimo appartamento Sempre con Letto doppio Sala da pranzo Cucina Eccetera E qua Il bagnetto Quindi questa zona E' una zona residenziale Per i simi Che vogliono passare la notte Qua nel parco Perché ragazzi Questo lotto L'ho salvato Come parco Detto ciò Però si va avanti Ragazzi Perché questo lotto E' gigante E spero davvero vi piaccia E' la build Davvero più complessa Che ho fatto Con questa espansione Ma a me Non dispiace Spero piaccia anche a voi Quindi si va Oltre il cartello E come vedete Anche qua Molto semplicemente Abbiamo Un'altra struttura Ve la faccio vedere Questa ragazzi E' semplicemente Una zona ludica Dove si possono vedere I film west Tutti insieme E qua abbiamo L'uscita Che vi facciamo vedere Prima Ecco Abbiamo due ingressi Da questa parte Con gli scacchi E da questa parte Invece Con la porta da finire E qua ho messo Tutti i dettaglietti Che ci conducano Alla piazza centrale La piazza centrale Di questa build Eccola qua Abbiamo due Possibilità di ingresso Questa Con queste scalinate Oppure questa Di lato Ho fatto due ingressi E cos'è questa zona E' una piazza Con una zona barbecue Tutta attrezzata Una zona per i bambini Con i cavalli Eccetera Una zona Dove si possono sedere Davanti al fuoco La fontana E anche degli alberi E qua abbiamo Diversi edifici Vedete Si compone In questo modo E mi piace La piazza centrale Ma tra questi edifici Ce n'è uno Che in realtà E' attivo E ve lo faccio vedere L'ho buildato io Ed è ovviamente La taverna Ragazzi Della città Abbiamo quindi La prima zona Fatta in questo modo Semplice Con la taverna Mentre al piano superiore Eccoci qua Abbiamo la zona Che ci porta A una zona salottino Molto semplice Che si raggiunge Appunto dal bar sottostante Niente di troppo complesso Ma mi piace E questo è l'ultimo edificio Che abbiamo Da vedere Ecco qua ragazzi La cittadina West Che ho fatto E' questa Spero vi piaccia Ragazzi Ci ho messo un po' Per buildarla Ma il risultato Non mi dispiace affatto Dai Mi piace Mi piace E' proprio una zona vivibile Mi immagino i sim Che vengono qua Con i bambini Con i cavalli Insomma Ci può stare Dai Spero vi piaccia Quindi fatemi sapere Qua sotto nei commenti Che ne pensate E ragazzi Abbiamo visto Sette lotti Di tredici A questo punto Direi che Ci fermiamo così E vediamo Nella seconda parte Gli ultimi sei lotti Tra questi sei lotti Vedremo Delle cose peculiari Ovvero Case residenziali Un altro parco E anche il bubble tea Quindi ragazzi Nella prossima parte Vediamo gli ultimi sei lotti Restanti Vi ricordo che Vi darò il save file Dello scenario E i lotti in galleria Dopo l'uscita Di vita nel ranch Quindi dopo il 20 Per questo video Quindi Io vi dico che è tutto Vi ringrazio per essere arrivati Fino a questo punto Vi ricordo di lasciare un like Iscrivervi al canale E noi Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.